Mi ama come una sposa, ma la roba sposa! Mi ama come una sposa, ma la sua sposa. Mi ama come una sposa, ma la sua sposa. La sua sposa. Non sono mai prusa, a cui tendere la mano sul cielo della strada. Se siete curiosi... di sfiare il nostro letto anunziale, io ve lo mostrerò. E sono sicura che non ritroverete nulla che io debba pregare di mantenere segreto. Te non sarà difficile che io riesca a farmi capire da lui, per quanto possa sforzarmi. Ma ora, io vedo tutto chiaramente. Tutto. I frammenti dispersi della mia memoria hanno composto tutt'un tratto. una collana di gemme del colore del sangue, di ruvini. Il passato degli anni mi ha insegnato che proprio la cosa contro cui si era fatto estremamente, giorno per giorno, proprio quella, si era intratto a essere la fonte, a cui senza saperlo beviamo con maggiore identità l'unica cosa al mondo, degna della nostra memoria, l'unica degna di essere racchiusa nell'ombra di un ricordo che non ci stanca mai, che ci compensa con un piacere che non conosce noia mille volte nuovo. Di ritorno dal nostro viaggio di nozze in Ormantia, Donatia fece fermare la carruzza, era un capo di gigli, poi il donore che una botta di vino rosso fosse sacrificata per irrorare le candide corone, per inibriare, diceva. E con un risguardo affascinato contemplare i bianchi calici, spillare il purpuro nel cuore. Un'altra volta, tornando dalla caccia, strappò con le sue dita davanti a me il cuore sanguinante di una lepre. Con che sorriso mi disse che in amore il cuore di un uomo, di una donna o di una lepre, sono la stessa cosa. Ma guarda che io non vedevo in questo che fantasia, capriccio. Oggi, invece, tutto si concatena in un sistema preciso a cui non manca affatto un'apparenza. E' per questo che ho parlato di rubini tenuti insieme da un filo misterioso a comporre la collana preziosa della mia memoria. Ed è un tesoro questo che io custodisco come una reliquia. Ora io so la verità e la mia fedeltà si fonda su questa conoscenza. Qualcosa vive accanto a me che non ha nome e non si può nominare? Non si può nominare! E se davvero io ho sposato un mostro come posso considerarvi? Una donna normale ragionente degna della fiducia in lui a me risultatevi e intendo solo dire che se mio marito è un mostro di perversione io per lui devo essere un mostro di fedeltà. Dovrò ricordarvi che vivo a contatto con qualcosa che non ha nome. di fedeltà